Marta Argerich e Teodosian Toku, una leggenda vivente del pianismo mondiale e una giovane interprete destinata presto a diventare una star. Il Festival Pianistico Internazionale, al secondo appuntamento in cartellone, ha marcato un nuovo grande successo, portando dunque sul palcoscenico l'inarrivabile pianista argentina, che in gioventù fu allieva ad Arturo Benedetti Michelangeli, e la giovane pianista greca, che nella Argerich ha trovato da alcuni anni un'amica e un punto di riferimento artistico. A loro fianco la filarmonica del Festival, guidata da Piercarlo Orizio, che è anche direttore artistico della manifestazione. Ed è stata Teodosian Toku a salire per prima sul palco, davanti al pubblico da tutto esaurito, e da offrire una brillante esecuzione del concerto numero due di Shostakovich, nel corso della quale ha dato saggio di padronanza tecnica e personalità. A seguire la Sinfonia numero uno di Prokofiev, che ha messo in luce le qualità della filarmonica, con pagine cresciute e maturata, ricca di giovani talenti, ai quali per l'occasione si sono unite prime parti di spicco d'altre orchestre. Ma è stato nella seconda parte della serata che il concerto ha raggiunto il suo apice, quando cioè è entrata in sala lei, Marta Argerich, che ha proposto il concerto numero uno di Beethoven, suo cavallo di battaglia. Camicetta nera, gonna a fiori e lunga chioma argentata, fedele al suo personaggio, la Argerich ha immediatamente stregato gli appassionati. Bravura stellare, capacità di dare significato e propria personalità ad ogni tasto sfiorato, sensibilità assoluta, la straordinaria pianista ha travolto gli ascoltatori con un'interpretazione magistrale. Applausi calorosi e ovazioni per lei, oltre ad un'esplosione di coriandoli bianchi che hanno impresso ulteriore festosità al clima della serata. E la richiesta di Bis non è andata delusa, prima da sola con Wittmung di Schumann e poi in coppia con Lantocchi per un brano di Ravelle, Marta Argerich ha prolungato la gioia del pubblico, ma non è finita qui, martedì 24 tornerà ancora lei al grande, Marta Argerich con la Franz Liszt Chamber Orchestra.